Anche quest'anno a Mendatica si rinnova l'appuntamento di tre giorni dedicato alla festa della transumanza. La tradizionale e appassionante rassegna prenderà il via venerdì con una mattinata didattica in attesa della discesa delle greggi in programma alle 15. La prima giornata si chiuderà con una serata goliardica in musica. Sabato dalle 9 il pubblico potrà invece visitare le bancarelle della fiera di San Matteo e alle 12 gustare il pranzo del pastore con i sapori tipici della cucina bianca. Alle 15 si snoderà il corteo storico e alle 16 gli occhi saranno invece puntati sul palio delle capre. La serata si chiuderà con la cena del pastore e il concerto con MH Band. La domenica si aprirà al mattino con giochi e animazioni per bambini al campo sportivo e parco avventura aperto. Dalle 12 infine saranno serviti ancora i buoni e saporiti piatti del pranzo del pastore.